Benvenuti ad Acqua e Sapone News! Il notiziario delle tentazioni! Come resistere alle offerte di Acqua e Sapone? Impossibile, diamo la linea a due esperti di tentazioni, Anna Pettinelli e... Pago! Grazie ragazzi, Pampers è in promozione! Con l'arrivo dell'estate per il tuo bambino c'è Pampers Costumino, la linea pensata per i bagnetti al mare, è in offerta a 5,50€. E per la protezione intiva di noi donne c'è l'Innespetalo, l'assorbente delicato e fresco, in offerta a 1,50€. E ora parliamo di un argomento a te sconosciuto. Quale? Io so tutto! Capelli! Garnier Ultradolce è in promozione! Lo shampoo e il balsamo sono in offerta a 1,69€ ciascuno e con la gamma Ultradolce meravigliosa regali nutrimento e lucentezza ai tuoi capelli, grazie all'olio di Argan e all'olio di Camellia. E in più con l'acquisto di due prodotti Ultradolce hai in omaggio un piatto in bambù. Resisto a tutto, tranne che alle tentazioni! E allora andiamo! Mi porti su un iterato! Ma di che? Chissà quanto costa! Ti porto d'acqua e sapone! Acqua e sapone! Oltre la convenienza! Oltre la convenienza!